In nome del popolo italiano la rivoluzione francese sbarca a Modica sul patibolo della ghigliottina giacobina i condannati del carnevale di Modica. Politici, giornalisti, notabili. La satira sulla ghigliottina rivoluzionaria è all'interno del village Sapori e Saperi di piazza nel centro storico di Modica dal 9 al 12 febbraio. Grazie per la visione!